dopo oltre quattro mesi è possibile secondo me tracciare un bilancio se non finale diciamo quasi finale all'avvio della stagione estiva di quello che ha fatto il coronavirus e di quello che ci lascia io credo che il coronavirus così come gli autorevoli studiosi e sociologi italiani stanno dicendo in queste ore lascia un'Italia che è ancora più divisa dalla paura è derivata la rabbia che sempre deve rivolgersi contro qualcuno e si va sempre alla ricerca di un nemico Giuseppe De Rita che è uno degli osservatori più più importanti che noi abbiamo in Italia fondatore presidente del Censes che ogni anno dà alle stampe quel famoso rapporto sull'Italia su quello che sono diventati soprattutto gli italiani dice che vede un paese incerto e spaesato mancano un traguardo e manca un ritmo e soprattutto si avverte l'assenza potremmo dire di un sentimento unitario io credo che abbia ragione io credo che da questo coronavirus che pure ha fatto registrare una tenuta del paese e una tenuta anche rispetto alla alle indicazioni dello stato centrale che non era assolutamente scontato ne usciamo più divisi che mai la pandemia ha segnato una regione fondamentale del nostro paese che è la Lombardia in contemporanea al mezzogiorno noi non abbiamo assistito a quello che è accaduto in Lombardia in misura minore ma pure importante in Piemonte in Venete in Emilia Romagna e anche in parte del centro Marche Toscana ma soprattutto in Lombardia è necessario un sussulto è necessario un sussulto in questa fase estiva per prepararci all'avvio della fase autunnale che sarà sicuramente una fase questo lo si può già tranquillamente dire ora una fase pesante dal punto di vista delle ricadute occupazionali e delle ricadute sul mercato del lavoro che già si fanno sentire ora speriamo che non ci siano ricadute dal punto di vista sanitario anche se gli allarmi ultimi dell'OMS dell'Organizzazione Mondiale della Sanità tracciano un percorso tutt'altro che ottimistico le parole che ha detto nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica Mattarella proprio a Bergamo nel cuore dell'emergenza sanitaria dei mesi di febbraio marzo ed aprile secondo me ci devono indurre ad un ripensamento ad un pensamento di quello che è stata l'Italia e di quello che dovrebbe essere ci aspettano mesi e settimane pesanti e credo che il coronavirus possa aver insegnato qualcosa a patto che tutti quanti ciascuno di noi ne faccia ammenda delle tante cose che non sono andate brutto buono